Buonasera, grazie di essere qui, vi ringrazio a nome dell'azienda farmaceutica Ipsa, a nome della fondazione Ipsa, a nome di LAC Edu e ringrazio la direzione dell'AC nella persona di Michel Gagnon per averci concesso il teatro perché siete tantissimi e purtroppo c'è ancora qualcuno che sta aspettando fuori, quindi buonasera, benvenuti. La responsabilità sociale e sostenibilità sono due parole apparentemente molto difficili ma sono legate da un concetto semplicissimo che è quello dell'equilibrio, l'equilibrio è qualcosa che noi cerchiamo di mantenere costantemente, lo facciamo nella nostra vita, nelle nostre giornate, lo fanno anche le aziende. Equilibrio costante tra ciò che riceviamo e tra ciò che vogliamo restituire, quindi questo evento, quest'oggi abbiamo appunto invitato un grande personaggio, Paolo Nespoli, per farlo incontrare direttamente così da vicino a tutti voi. Equilibrio perché dicevo, perché l'equilibrio è ciò anche che noi cerchiamo in tutte le cose che facciamo, per esempio se abbiamo una grande passione, la fatica di lavorare, la fatica di studiare, la fatica di impegnarci ci sembra tutta molto più leggera, quindi una costante ricerca di equilibrio. E anche quello che abbiamo fatto durante tutta la settimana, quindi questo evento, questo incontro con Paolo Nespoli va a concludere una settimana molto intensa di lavoro che abbiamo fatto a Villa Saroli, abbiamo ospitato delle classi di terze, quarte e medie, ho visto un po' di ragazzi che abbiamo incontrato in questa settimana e vi ringrazio di essere venuti come mi avevate promesso. Ovviamente, volontariamente, non sono stati obbligati con la forza. Durante questa settimana che cosa abbiamo fatto? Il progetto si disegnatori, fumettisti e anche lì una costante ricerca di equilibrio tra quello che gli scienziati ci hanno raccontato, la loro vita, il loro impegno, che cosa hanno fatto per diventare quello che sono e che cosa fanno durante la giornata e durante la loro vita e l'equilibrio, nel senso di cercare di racchiudere questi importanti concetti scientifici in dei fumetti molto semplici. Io credo che dai disegni sorprendenti che sono venuti fuori e che sono stati molti anche in mostra a Villa Saroli, credo che abbiamo raggiunto costantemente questa ricerca di equilibrio. Adesso sicuramente non è che siete venuti per sentire me, per cui io smetto di perdere tempo. Vi lascio con una persona che dell'equilibrio e della ricerca dell'equilibrio direi che ha fatto una costante del suo lavoro. Introduco prima Giovanni Pellegri, responsabile dell'Ideatorio. L'Ideatorio è un centro emanato dall'Università della Svizzera Italiana dove si può fare della scienza, è molto amico di Fondazione IPSA e della IPSA e quindi visto che lui è anche vicino alle stelle, gli lascio la parola per guidarci in questo pomeriggio di una bella chiacchierata con Paolo Nespoli. Buonasera a tutti. Giovanni. Grazie Silvia, non sono io Paolo Nespoli, sapete, io mi chiamo Giovanni e ho il compito di accompagnare l'astronauta. Devo dirvi però una cosa prima, è bellissimo vedere che c'è tantissima gente, tantissimi ragazzi, ragazze, bambine e bambini. Sapete la storia com'è andata? 50 anni fa un uomo, due uomini in verità andarono sulla luna. La luna era sempre stato quel luogo dei sogni, gli amanti si baciavano sotto la luna, era il luogo dove Jules Verne immaginava questo viaggio impossibile ma anche a Riosto, è quel luogo dove guardiamo e sogniamo, speriamo, ci chiediamo come leopardi che cosa fa la luna lassù insomma. Ed è una storia tutto sommato anche abbastanza triste all'inizio perché eravamo alla fine della seconda guerra mondiale, una triste storia questa, molto triste e c'erano i nazisti che avevano inventato una cosa terrificante, dei razzi per ammazzare le persone. Si chiamavano V2, li lanciavano dalla Francia su Londra e stavano ammazzando tantissime persone, tristissima storia. Per fortuna la guerra finì immediatamente e queste persone furono arrestate, poi portate molte negli Stati Uniti, alcune anche nell'Unione Sovietica e fra questi c'era un signore che si chiamava Von Braun che aveva proprio disegnato, inventato questi missili capaci di andare altissimi, poteva già portarli fuori, fuori nello spazio ma si stava pensando solo a costruire ancora armi perché controllare lo spazio vuole dire controllare il nemico e i medici cosa fecero? Mandarono il primo cagnolino, una cagnolina nello spazio, prima degli americani e poi mandarono anche il primo uomo nello spazio, poi mandarono anche la prima donna nello spazio e allora in questa corsa sfrenata della guerra fredda arrivò un presidente che disse noi mandiamo un uomo non nello spazio, sulla luna. Fino qui la storia è triste perché è la piccolezza umana che ha fatto fare grandi cose ma appena gli uomini andarono là fuori si accorsero che noi siamo su una biglia piccolissima nell'immensità dello spazio e lo sguardo cambiò. E quando succedevano queste cose c'era un ragazzo che aveva 12 anni come alcuni di voi e era davanti alla televisione diceva mi affascinavano queste immagini trasmesse dalle tv che erano ancora in bianco nero pensate e vedere questi astronauti che saltellavano nella polvere lunare e disse lo voglio fare anch'io aveva 12 anni questo sogno finì come tutti i nostri sogni in un cassetto e poi si disse vabbè ma cominciò a coltivarlo annaffiarlo e piano piano questo sogno diventò realtà. Ecco è per me un piacere quindi accogliere quello che colui che ha trasformato questo sogno in realtà e quindi vi do un gran benvenuto all'astronauta Paolo Nespoli. Benvenuto sul palco dell'H. Grazie Giovanni, buon pomeriggio, poi Giovanni poi con tutta sta gente facciamo la ola alla fine, facciamo un po' di cose così. Buon pomeriggio, grazie per essere qua con noi questo pomeriggio, vi è avuto la pazienza di aspettarci, grazie per l'introduzione Giovanni. Prego, è un piacere poter ascoltare un po' questa tua esperienza perché sapete gli astronauti li vediamo sempre solo in televisione, ogni tanto vederne uno che è proprio fatto di carne e ossa non è male, sicuramente abbiamo tante domande, pensiamo di far così stasera, abbiamo un po' di tempo per stare insieme, innanzitutto ci facciamo raccontare insomma alcune cose del suo percorso di vita ma poi daremo anche spazio a voi, magari anche i bambini, i ragazzi per fare delle domande. Quindi iniziamo pure da questo tuo racconto insomma. Tu eri un bambino, avevi 12 anni e hai visto le immagini di questi uomini che andavano sulla luna e hai detto lo voglio fare anch'io. Non ci sei andato sulla luna, però sei andato nello spazio. Beh sì è vero, è vero, è vero. Io ho preparato una presentazione ma stiamo andando a braccio anche per lasciarvi tempo e modo di fare domande. C'è una cosa particolare che quest'anno è il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna e ci sono un paio di cose importanti se posso farvi vedere velocemente. Comincerei da qua, qui siamo a Houston, alla Rice University quando il 12 settembre 1962 il presidente Kennedy, John Kennedy, è eletto un anno prima o poco meno di un anno, ha fatto un discorso veramente importante, lo citavi prima la corsa, queste cose. Tenete presente che a questo punto i russi erano partiti, i russi sovietici erano partiti per questa maratona ed erano al chilometro 20, gli americani cercavano di partire e gli saltavano tutti i razzi, gli si spaccava tutto, non funzionava niente e a un certo punto John Kennedy dice, diamogli un po' di volume a John, Houston, abbiamo anche noi Houston, qui siamo a Lugano e abbiamo Houston, siamo pronti? Sì. Sì. Roger. E in questi 30 secondi John Kennedy ha detto delle cose incredibili che a parer mio pochi politici hanno detto da allora. Se andiamo a guardarlo, questo è il discorso vero, c'è una coppia a casa, credo sia una coppia, non può essere quello vero, me l'ha regalato sua figlia tra l'altro, e ci sono le sue note, ma dice, tradotto in italiano, abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio, cioè da una deadline che già oltre il suo mandato politico, cosa complessa per i politici, dire faremo una cosa dopo che io non ci sono più, non perché sarà difficile, perché sarà semplice, ma perché sarà difficile, di solito dico facciamo questa cosa perché si può fare, non perché non si può fare, perché quell'obiettivo ci permetterà di organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e capacità, perché questa è una sfida che siamo pronti ad accettare, una sfida che non abbiamo intenzione di rimandare e che abbiamo intenzione di vincere, un messaggio veramente potente, dopodiché si sono svegliati, hanno messo a disposizione della loro NASA i soldi, le risorse necessarie, 80.000 persone hanno lavorato per andare sulla Luna e il 20 luglio 1969, prima della fine della decade, un astronauta americano, Neil Armstrong e un altro astronauta americano, Buzz Aldrin, hanno camminato sul suolo lunare, Neil Armstrong il primo, ora se voi guardate, lo vedete questo, è lo stemma della mia ultima missione, se guardate con attenzione, attorno ci sono i nomi degli astronauti, avrò visto 500 stemmi, hanno tutti i nomi degli astronauti, addirittura nella mia prima missione mi hanno detto, Nespoli tu sei il più giovane disegna lo stemma della missione, che cosa ci devo mettere? Non me ne frega niente, basta che c'è il mio nome, queste erano le direttive per fare questo. Ora guardate lo stemma dell'Apollo 11 voluto da Neil Armstrong, non c'è nessun nome, nessuna bandiera, è stato veramente la volontà degli astronauti di allora, hanno capito che stavano facendo una cosa per il genere umano e difatti eravamo tutti dietro loro, non andavano gli americani sulla luna, non andava Neil Armstrong, andava un rappresentante del genere umano e tant'è vero che arrivando sulla luna ha detto, it's a small step for a man, a giant leap for mankind, è un piccolo passo per un uomo, un balzo enorme per l'umanità, per tutta l'umanità e questo è stato forse uno dei momenti più forti del secolo scorso che ci ha portato sicuramente avanti e spero che in futuro ce ne saranno altri, giusto Giovanni? Dovremmo ritornare a fare queste cose strategiche per noi, per tutti noi, sicuramente fare queste cose ci migliora la vita qui sulla terra oltre che espandere le nostre conoscenze. Mi chiedevi dove ero io, giusto? Eh sì, avevi 12 anni. Eccolo qua, guardate com'ero carino, no? Già si vedeva qualcosa di astronautico, no? C'avevo già il mio razzo qui, no? Veramente, vabbè, più o meno ci assomiglia, uno potrebbe. C'avevo anche l'iPad allora e quando mi chiedevano, senti un po' Paolo, che cosa vuoi fare da grande? Eh, che cosa voglio fare? Cioè, voglio andare sulla luna, voglio andare e guidare la jeep lunare e vedere se riesco a fare le derapate sulla luna, no, 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 no. Poi mi guardavano e mi dicevo, bravo, bravo, studia che ce la farai, gni, 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 gni. Perché insomma, allora, le probabilità che un ragazzino brianzolo, un italiano, un europeo, finisse in orbita sulla luna erano praticamente zero, quindi non ci credeva nessuno, neanch'io, tanto è vero che questo semino lo buttate in un cassetto e ci è voluto un po' più di tempo poi per piantarlo e farlo crescere. L'hai detto a qualcuno che il tuo sogno era questo, oppure era un tuo sogno privato? No, no, no. Allora, fino a che non ho capito che la gente si girava e faceva gni, 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 lo dicevo anche e quindi poi ho smesso anche di dirlo. L'ho detto alla mia fidanzatina da allora, cioè alle scuole medie avevo una fidanzatina, insomma, vabbè. E quando alla fine della terza media loro si sono trasferiti, lei come regalo di saluto, di addio, di quello che ci rivedremo nel futuro, mi ha regalato un libro e quel libro si intitolava Se il sole muore di Oriana Fallaci. Ed era il libro che parlava dell'avventura degli astronauti che sono andati sulla luna. E la mamma e il papà cosa dicevo davanti al fatto che tu volevi fare l'astronauta? Le bonde fa niente. No, devo dire che c'era, è interessante questa cosa della cultura brianzola, forse qua è uguale, non lo so. Beh, bisogna dire che lui è nato e cresciuto a 30 chilometri da Chiasso, quindi siamo proprio in ambienza. Sì, quindi non sono lontanissimo da qua. Anzi, paradossalmente il dialetto della mia zona è più vicino allo svizzero che al milanese, tra l'altro, l'inflessione. Comunque, era interessante questa cosa perché oggi lo capisco, ho dei bambini, mia moglie, e quando io interagisco, adesso un po' meno, ma all'inizio interagivo con i bambini, mia moglie mi guardava inurridita. Ma cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Sto dicendo qualcosa ai bambini. Non si parla così ai bambini. E come si parla? E quindi ho dovuto fare questa cultura, no? Lei mi ha insegnato che ai bambini bisogna usare il positive reinforcement. Cosa ridete? Cioè, un bambino fa dieci cose, di cui nove fatte male, ha distrutto tutto, e quella un po' così tu dici bravo, bravo, che ce l'hai fatta, hai visto che sei riuscito a fare il puntino sulla i, bravo, vai avanti così, no? No? Quel resto non devi neanche fare niente, neanche rigidi, niente, proprio come ne sono esistesse. Ecco, io sono nato con mia madre che faceva il negative reinforcement, cioè se facevo otto cose fatte bene, perfette, e due un po' così, sta pur tranquillo che le otto non le menzionava, e le due mi massacrava, e diceva, non c'è se ponte fa niente, tutta questa cosa qua, bravo, 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 bravo. E difatti è stata una cosa interessante, è stata una palestra piuttosto dura, quella di mia madre, e non a caso, a 19 anni, quando veramente non riuscivo a capire cosa fare da grande, perché insomma, il problema dei ragazzi, quello che dico io ragazzi adesso, non è tanto, beh, è capire cosa fare da grande, ma bisogna trovare una cosa che ti piace, per la quale hai passione, ma tante volte noi abbiamo passione per qualcosa, compriamo qualcosa, lo vogliamo, e poi quando ce l'abbiamo scopriamo che non era proprio, chi se ne frega, cioè lo butti via, ecco, è lo stesso quando tu vuoi fare una cosa, poi ci provi e lo scopri dopo che non ti piace, quindi trovare una cosa per cui hai passione, una cosa che veramente ti è passione, una cosa che poi puoi fare, cioè immaginate se io avessi voluto dire, voglio fare il ballerino alla scala, voi immaginate che su questa stazza avrei potuto fare il ballerino alla scala, tutta la buona volontà che ci avrei messo, probabilmente non ce l'avrei fatta, e quindi una cosa che ti piace fare, che la tua passione, che puoi fare, una cosa per la quale puoi anche vivere, guadagnare qualcosina, mangiare, pagare i conti, queste cose, non è facile, non è assolutamente facile, e quindi se da un lato i ragazzi giovani hanno il mondo aperto, hanno la vita aperta, dall'altra è una sfida non indifferente, e spero che loro riescano a farla guardandosi attorno e prendendo le cose che più gli piacciono. Infatti lo dicevi anche nelle pagine iniziali, tra l'altro molti dei suoi racconti ritrovati su questo libro, dall'alto i problemi sembrano più piccoli, tu dicevi proprio nelle pagine iniziali che bisognerebbe scegliere sempre un sogno, un sogno anche impossibile, ma non troppo, ma la cosa che mi ha colpito è che in fondo tutti ti ammirano perché sei un astronauta, perché gli astronauti sono degli uomini particolari, sono andati lassù, hanno fatto delle cose straordinarie, ma con tutto il rispetto io ammiro tutte le persone, quindi anche te, che hanno una passione, può essere anche un muratore, può essere anche un panettiere, perché quello che hai detto tu vale non solo per chi fa l'astronauta, vale per tutti. Guarda, l'altro giorno ero in una scuola, non ricordo dove, ma è comunque una scuola ragazzini, e c'era questa bambina che voleva fare una domanda, quindi è scesa, ciao come ti chiami, Benedetta, quanti anni hai, nove, che cosa vuoi fare da grande? Voglio fare la gelataia, e tutti hanno cominciato a ridere, perché la gelataia è un lavoro da, che lavoro è fare la gelataia, voglio dire, voglio fare la gelataia, è un lavoro che ha un futuro, ha una prospettiva, ha qualcosa, fa la gelataia, dov'è il coso? Eppure, se voi ci pensate, li conoscete i fratelli Grom, sapete chi sono i fratelli Grom? Sono due che vogliono fare i gelatai e che hanno fatto una fortuna incredibile facendo il gelato più buono al mondo, più o meno, adesso non sto facendo la pubblicità per loro, ma voglio dire, una qualsiasi cosa, tutte le volte che un ragazzo mi chiede, voglio fare l'astronauta, ma quanto guadagna? Questa è un'altra domanda, che spesso e volentieri i ragazzini mi chiedono quanto guadagno, io all'inizio mi trovavo in difficoltà nel cercare di capire perché mi fanno questa domanda, c'è anche perché un ragazzino se gli dici 50, 100, 1000, che differenza fa? Non c'è la sensazione di cosa vuol dire avere i soldi, quanto guadagni? E quando finalmente ho capito, perché stavo cercando di dire ah ma è bello fare l'astronauta, è sicuramente interessante, sicuramente sei famoso, ma guadagni? Perché se no non mi metto a fare l'astronauta, se no non ci provo, se no è fatica, è cosa? No, devo guadagnare tanto, per cui il problema qua è che uno parte da quanto guadagna, invece che cosa deve fare, che cosa può fare, che qualsiasi cosa, anche solo fare un disegno, uno schizzo, uno bravo, guadagna molto di più di un astronauta, se uno è capace di risolvere un'equazione di quattordicesimo grado e risolvere il senso della vita, che faccia quello, ma non è necessario fare quello per avere successo, qualsiasi cosa va bene, basta che la fai con passione, perché la passione ti porta, dove ti porta la passione? Ti porta a arrivare anche alla sera non ti rendi conto, cioè quelli che non hanno passione li vedi, guardano loro oggi alle 5 di sera, basta ho finito, adesso vado a fare qualcosa, quegli altri sono lì fino alle 10 di sera e parca miseria sono le 10, devo andare a casa, devo dormire, ma ancora un pochettino, ecco quella è la passione che ti porta ad arrivare dove normalmente gli altri non arrivano e questo è riconosciuto, qualsiasi cosa che tu faccia, da fare il gelato, a fare l'astronauta, a fare lo scrittore, a fare il tassista, a fare qualsiasi cosa. Ma allora come questo bambino, questo ragazzino ha 12 anni, cresce, sentiamo come è diventato astronauta. Ma non è stato semplice diventare astronauta, perché come dicevo prima sono nato e cresciuto in Brianza, poi a 19 anni non sapevo cosa fare, si voleva fare l'astronauta, vabbè ciao, c'è stata una cosa interessante, la vita alla fine è un insieme di coincidenze, cosa sono le coincidenze, non so, si potrebbe parlare filosoficamente all'infinito, una coincidenza è una cosa che tu cerchi, è una cosa che cerca te, è una cosa che vedi, quante sono le coincidenze che non vediamo? Quali sono le coincidenze che vediamo e che prendiamo? Boh, discussione lunghissima. Comunque, a un certo punto, a 19 anni, ho pensato di fare l'università ma le cose non funzionavano, ero lì che cercavo di capire cosa fare da grande, cosa potevo fare, bam, mi è arrivata la cartolina per fare il militare. E quindi sono andato a fare il militare, sono arrivato a Pisa, alla scuola militare di paracutismo, allora il posto più repressivo dell'esercito italiano, nonnismo, ce n'erano in tutti i colori, si stava benissimo, non c'era mia madre e quindi era perfetto, perfetto, cioè si stava così bene che alla fine dell'anno di leva ho detto col cavolo che io torno su in Brianza con mia madre che mi massacra, resto qua, continuo a fare il militare, non ho mai pensato di fare il militare ma alla fine sono rimasto lì. E paradossalmente in questo ambiente mi sono trovato a dover fare i conti con tutti i muri che io vedevo attorno a me, sono i miei limiti, vedevo questi muri e quando loro per una ragione o per l'altra mi spingevano contro questi muri, io recalcitravo, loro mi spingevano quando gli ruoli, boom, vedevo che era un muro di cartone, ce l'ho messo io lì il muro, ce l'ha messo la mia famiglia, ce l'hanno messo chi, tu non lo farai mai quella roba lì, è inutile che ci provi, va bene non ci provo, ma quando poi mi forzo, ti forzano a provare ho scoperto che buona parte di questi muri di fatto erano di cartone, ci potevo passare senza problemi, ogni tanto pensavo di andare, vedevo un bel muro di vetro speng e capivo che non riuscivo a passarci, quello era un limite, quindi dovevo capire cosa gli faccio, gli giro attorno, gli passo sopra, lo distruggo, non lo so, ma insomma a capire quali fossero le mie capacità e poi andando avanti a 26 anni, dopo 8 anni di militare ho finalmente avuto la coscienza sufficiente per dire che cosa voglio fare da grande e anche lì i casi della vita, visto già che ci siamo raccontiamo anche questo, il caso della vita ha voluto che mi trovassi in Libano in una missione di pace dove c'era l'esercito italiano, pace di guerra, ma insomma chiamiamola pace e quando ci hanno sfiltrato chi c'era sulla nave con me? Oriana Fallaci e la coincidenza, veramente coincidenza, questa grande giornalista era lì per documentare questa cosa ed eravamo lì insieme, abbiamo cominciato a parlare e lei mi ha chiesto, sono a Nespoli che cosa vuoi fare da grande? Dico, ma veramente io sono militare, sono un ufficiale dell'esercito adesso, sono un incursore, scusi se è poco, e fa sì sì ho capito, ti stai divertendo, ma che cosa vuoi fare da grande? Quando non ce l'ho fatta più a svicolare, quella veramente ti metteva le corde e ti faceva parlare, ho detto senti, è anche colpa tua, volevo fare l'astronauta, però non lo posso fare, perché non lo puoi fare? Perché non lo posso fare? Ho 26 anni, non ho una laurea, non parlo inglese, oramai è tardi, tutte queste cose qua, è chiaro che non si può fare, e lì devo dire che lì mi ha detto una cosa interessante ed è, lo sapete qual è, o lo sai, a me ha detto lo sai, a voi vi dico, lo sapete qual è il modo migliore per non realizzare un sogno? È quello di non provarci, se uno ha già belle che è deciso non si può fare, se uno trova tutte le scuse possibili, immaginabili, ma sì non ho tempo, sono vecchio, non ho l'età, non parlo inglese, non posso fare questo, scuse, contro scuse, contro scuse, ragioni, paradossalmente i sogni, parlavi prima di sogni, i sogni non sono realizzabili, ecco perché sono sogni, se è un sogno non è realizzabile, ma ogni tanto dopo un bel sogno uno si sveglia, si dà da fare e ogni tanto succede che riesce a farlo, quindi con quell'idea che oramai ho 26 anni, oramai ho capito quali sono i miei limiti, oramai sono pronto a sfidare questa cosa impossibile, ho lasciato l'esercito e mi sono andato da fare, non è stato semplice, ci sono voluti 14 anni, 14 anni con tre tentativi, tre selezioni, perché poi c'è il problema qui, non è che tu dici voglio fare l'astronauta studio, ho la laurea a fare le cose, sì, quali sono le cose di base, devi ancora cominciare a camminare, devi ancora cominciare a correre con te, ci sono tante persone che corrono, quindi arrivi alle selezioni, tu pensi di essere il migliore e c'hai altre mille persone, ne devi solo ammazzare 999, quindi si può anche fare, non ti selezionano, quindi vai alla prossima selezione, aspetti quattro anni, vai a un'altra selezione, fai tutto lì, questa volta non sono mille, sono 3000, quindi devi ammazzare 299, arrivi fino in fondo, non sei selezionato, quindi aspetti altri quattro anni, fai un'altra selezione, questa volta sono 5000, quindi devi ammazzare solo 4998, e poi finalmente, in questa cosa qua, alla fine nel 1998, ad agosto del 98, mi hanno selezionato come uno dei due astronauti dell'agenzia spaziale italiana, mandato nel corpo astronauti dell'agenzia spaziale europea a Colonia, in Germania, e da lì mi hanno detto, vabbè Nespoli tu ti mandiamo negli Stati Uniti, perché noi come Europa, la Svizzera fa parte dell'agenzia spaziale europea, come Europa non abbiamo la possibilità di viaggiare nello spazio e quindi dobbiamo agganciarci o ai russi o agli americani, mi hanno mandato a Houston. Ti posso fare una domanda, perché hanno scelto te? Bisognerebbe chiedere la mia madre, perché hanno scelto me? Sì. Questa è una bella domanda che mi sono fatto anch'io, perché quando sono arrivato lì, ho visto tanti degli ultimi finalisti, ed era gente che secondo me era molto più, non dico qualificata, ma per qualche ragione, tu pensavi no, qui non c'è verso, non so, c'erano piloti, c'erano ingegneri, c'erano fisici, c'era gente, e non lo so, una selezione di questo tipo è una cosa che non è prevedibile, perché i parametri sono vari, sono strani, quando fai una selezione non è che tu dici devo fare il risotto, 100 grammi di riso, 5 grammi di sale, un litro d'acqua, 17 minuti e viene fuori il risotto, non è così, non è che è così, hai mille, per quanti siamo qua? 600, voi pensate 6 per 5, 30, 6 volte o 5 volte il numero di persone qua e ne devono prendere 2 o 1, come facciamo a selezionare quello? Sì, siamo tutti qualificati, abbiamo tutti la laurea, parliamo tutti inglese, abbiamo tutte le qualifiche mediche, il resto è ora? Mi ricordo ancora una cosa interessante, abbiamo fatto svariati colloqui e moltissimi di questi colloqui erano colloqui tecnici, cioè si parlava di meccanica orbitale, di scienza della vita, cose tecniche spaziali, io cercavo in tutti i modi di rispondere al meglio possibile, poi in uno degli ultimi colloqui mi ricordo ancora che uno della commissione mi ha chiesto, Nespoli, quali sono i suoi hobby? hobby, hobby, ok, mi piaceva pilotare piccoli aerei, mi piaceva la fotografia, far fotografie, mi piacevano queste cose e lui mi ha detto, ah fotografia, che tipo di foto fai? E abbiamo cominciato a parlare di fotografia, questo in una selezione con una commissione di 10 persone, io e lui abbiamo cominciato a parlare di fotografia e io ho pensato adesso, vabbè, andremo avanti su qualche domanda di quel, e siamo andati, 45 minuti di colloquio, abbiamo parlato 25 minuti di fotografia e io dicevo, ho capito, ma qui dobbiamo parlare di altre cose, perché parliamo di fotografia? E comunque, siccome era un argomento che mi piaceva, io continuavo a rispondere e ho capito dopo che se ti chiedono come risolvere un'equazione di terzo grado, lì lo sai, per forza lo devi sapere, se no non va da nessuna parte, ma lo sanno tutti, come lo sanno tutte le altre cose, ma quando si comincia a andare nelle passioni, quando si comincia a capire se tu sei l'ingegnere quadrato che pensa solo, ma hai una parte più artistica per esempio, riesci a guardarti attorno, riesci a comunicare, riesci a fare una cosa che ti appassiona, cioè io mi sono acceso, mi sono acceso nel parlare di una cosa dove non mi sentivo sotto pressione ed era una cosa che mi piaceva e c'è stata questa cosa dove veramente io e lui e probabilmente tutti gli altri ci siamo relazionati, d'altronde quando fai una selezione, come fai a capire, prendi un ragazzo di questi, di 20 anni, 30 anni, come fai a capire se sarà un bravo astronato tra 15 anni, come si comporterà sulla stazione spaziale internazionale in un luogo isolato e confinato per sei mesi, come fai? Non lo sappiamo, devi proiettare questa immagine, questa storia della passione secondo me è importante, torniamo ancora al prima, fate una cosa che vi appassiona, fatela diventare il vostro lavoro e vi troverete a rifare un lavoro e sarete contenti e vi ravaglierete alla fine del mese che vi pagano anche, diciamo ma mi pagano anche, che bello, guarda che roba. Sì, dicevo, siamo arrivati a Houston, al Johnson Space Center, questo è il famoso mission control, Houston we have a problem, qui c'era il palazzo degli astronauti, quando sono arrivato col mio badge, sono entrato dentro, si è aperta la porta, vietato l'ingresso e così, pena la fucilazione, ping, si è aperta la porta, sono entrato, i nomi degli astronauti famosi, John Glenn, John Young, Claude Nicolier, la gente che aveva volato nello spazio, che era già, io ero lì così, per cui niente, ho trovato finalmente il mio nominio sotto un sottoscala, ma c'era, 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 è stato interessante come ci hanno messo in una classe di astronauti, eravamo 25 americani, due italiani, un francese, un tedesco, un canadese, un brasiliano, sembra quasi l'inizio di una barzalletta, Giovanni, c'era una volta 25, c'è stato un problema interessante perché era il 98 e in quel momento lì stava cominciando la costruzione della stazione spaziale internazionale, ora la NASA ha capito che per la costruzione della stazione spaziale internazionale gli servivano tanti tecnici e gli astronauti sono di solito dei bravi tecnici e loro cosa hanno fatto? In quattro anni, e noi eravamo alla fine di questi quattro anni, hanno raddoppiato il numero degli astronauti nel corpo di astronauti, sono passati da 70 a 150, non tanto perché c'erano i posti per farli lavorare, scusate, per farli volare, ma perché gli mettevano la carotina, vuoi volare nello spazio? Cammina, cammina, la carotina non si avvicinava mai, andava avanti così e tanto è vero che quando siamo arrivati, eravamo la diciassettesima classe di astronauti, quelli della classe prima di noi, ci hanno dato il nominio dei pinguini, questa è la nostra mascotte, vedete lì la nostra mascotte, lo sapete perché ci hanno dato il nome dei pinguini? Perché i pinguini sono un volatile che non ha mai volato, non può volare, ha le ali troppo piccole, pesa troppo e quindi fa finta di essere un volatile, ma non vuole, perché tanto voi non volerete mai, figurate prima, e difatti ci sono voluti dieci anni o nove anni e passa prima di essere assegnato alla prima missione, ma in quanti hanno volato di questi? In quanti hanno volato? Su 31 hanno volato in 29, uno per qualche motivo si è ritirato a un certo punto e sfortunatamente Paddy ha avuto un incidente di volo ed è morta, in un incidente di volo, per il resto hanno volato tutti. Quindi erano dei pinguini speciali. Sì, sì, ma andiamo avanti, non lo so cosa c'è dopo, qui dove siamo nel 98, arrivato tutto bello, è stato, scusi c'è la signorina lì che vuole una domanda, gliela facciamo fare? Sì. Io quale sono? Il pinguino. Secondo voi quale sono? Dica, quello lì, ah ci assomiglia, ho i capelli un po' più scuri ma sì, sono io, sì sono io, sono io, eccomi laggiù, nell'angolino, l'ho già messo in castigo già dall'inizio. Ma penso che dobbiamo arrivare fino a volare, vogliamo volare, insomma andiamo avanti fino a quando stacchiamo, ecco. No, la cosa interessante che ci hanno detto era, ragazzi voi sì, vi abbiamo dato la tuta ad astronauti, vi abbiamo dato il nome che ho scritto con le leali, ma non siete astronauti veri, siete AA, allievi astronauti, questo era il nostro titolo. E devo dire che mi è venuto da ridere quando ci hanno detto così, perché mi sono ricordato ancora, quando ero arrivato a Pisa, alla scuola militare di paraglutismo, il titolo iniziale era AP, allievo paraglutista, dopodiché qualche mese dopo prendi il brevetto AIP, allievo struttore di paraglutismo, dopo qualche mese dopo AS, allievo sotto ufficiale, dopodiché AI, allievo incursore, insomma io andavo avanti nella mia vita e c'era questa A che mi seguiva perennemente, ma poi sono arrivato all'università Roa, arrivo a Houston, AA, allievo astronato un'altra volta, no, ma di fatto mi ricordo di aver chiamato qualcuno dei miei colleghi, ho mandato un'email ridendo, scusa, allora allievo, va bene, vediamo dove siamo arrivati, ah ecco ci hanno detto voi della classe 17, siete una classe speciale perché costruirete, parteciperete alla costruzione della stazione spaziale internazionale, vogliamo parlare un po' della stazione spaziale internazionale, perché oggi non andiamo più sulla Luna, quindi se qualcuno mi fa una domanda dopo, allora Nespoli com'era sulla Luna? Vuol dire che non è stato molto attento, non andiamo sulla Luna, andiamo su questa casa laboratorio in orbita attorno alla Terra, forse tra qualche anno sulla Luna ci riandremo, ma per il momento l'unico posto dove andiamo è qua, ora posso fare una domanda a loro? Perché andiamo sulla stazione spaziale internazionale? Là c'è gente che sa, bisogna urlare, adesso proviamo la fisica dell'acqua. Andiamo là su, signor W, dica, sì con la maglia gialla, vai, per fare esperimenti, ottimo, per fare esperimenti, poi? Questa è già una domanda, un attimo, andiamo per passi qua, dovete, sono io che faccio la domanda a voi, perché andiamo sulla stazione spaziale internazionale? Per fare esperimenti, per guardare lo spazio, per dormire, bisogna anche dormire, poi vi spiego del dormire, per scoprire cose nuove, per fare fotografie, per fare fotografie, dov'è? Per stare di più nello spazio, per studiare lo spazio, vabbè, ok, benissimo, per vedere la terra, ok, tutte queste cose sono tutte cose interessanti, ma la domanda è, perché non possiamo fare queste cose qui sulla terra? Le possiamo fare benissimo, perché andiamo sulla stazione spaziale internazionale, che non è facilissimo andarci là sopra, tenete presente che sei nello spazio, sei nel vuoto, se non avessi una casa polmone che ti mantiene in vita, moriresti nel giro di un millesimo di secondo. Qui sono condizioni estreme, quindi dici, ma perché non facciamo queste cose a Lugano, che è anche un po' più carino, e di sera uno va fuori, va a fare un giro sul lago, perché andiamo lassù? Perché? Perché non c'è la gravità? Allora, perché lassù troviamo delle condizioni che non ci sono Lugano, se no staremo Lugano, Lugano c'è la gravità? Sì. Voi immaginate cosa succederebbe a Lugano se non ci fosse la gravità? L'acqua del lago, i pesci in giro per le strade, noi voleremmo via, se qui non ci fosse la gravità. Ecco, lì andiamo su lì, perché lì ci sono delle condizioni che non ci sono da nessun'altra parte al mondo, e lì possiamo fare gli esperimenti, le attività, le cose che sulla Terra non possiamo fare. Perché non c'è la gravità lì? Giovanni aiutaci. Questo è difficile. Perché? Perché? Perché sei in caduta libera. Iii, cos'è sta roba della caduta libera? Perché non c'è la gravità? Forza! Qui lo sa, lo sa. Dica. Eh, bravo, perché lo spazio è più grande, più o meno. L'hai un po' che ci sta provando. No, non lo sai più. Facciamolo dire la ragazza. Cos'è? Perché? Perché non c'è l'atmosfera. Perché sei fuori dall'atmosfera. Ah, ok. Cos'era? Perché? Chi è che sta parlando lassù? Silenzio! Aspetta qua che uso la... No, non posso usare l'asia per l'atmosfera. Questo qui, questo qua si può... Lei, lei, lì, dica! Perché siamo lontani dalla Terra. Oh, finalmente è una spiegazione che sembra abbia senso. Perché se lontana sulla Terra? No. No, è logico, è logico, quindi va benissimo. Cioè, quando io vado nelle scuole e cerco di far fare questa cosa ai ragazzi, li chiedo di fare cose, un po' si vergognano, un po' non sanno, poi dicono le cose più strane. Questo è il lavoro che fanno ricercatori. Cioè, i ricercatori non è che... I ricercatori si mettono lì, guardano qualcosa che non conoscono e cominciano a dire, ma forse questo, forse quest'altro, forse questa... E vanno tutta la lista, dalle cose più intelligenti alle cose più stupide o comunque più banali e poi cominciano ad analizzarli. Questo no, questo no, questo no. Allora, la risposta di solito a questa cosa è perché è lontano dalla Terra, e non è corretto, lo sapete a quanto vola la stazione spaziale e quant'è la distanza dalla Terra? È circa 400 chilometri. Cosa c'è da 400 chilometri da Zurich? Ginevra. Firenze. Ginevra è 400 chilometri? Più o meno. Ginevra, è come una Ginevra Lugano, più o meno, no? Quindi dice, voi sapete che la Terra ha una forza di gravità così forte che dal centro della Terra riesce ad arrivare sulla Luna, sulla Luna che è un po' più grande della stazione spaziale internazionale, la prende, la tiene la Luna e la tiene e la fa girare attorno alla Terra. Se non fosse così la Luna volerebbe via. Quindi la forza di gravità è fortissima. Sapete qual è la distanza tra la Terra e la Luna? 350.000 chilometri, mille volte di più della stazione spaziale internazionale e riesce a tenerla. Voi pensate che cosa fa la Terra, la forza di gravità, a questo moscerino a 400 chilometri. Ma allora dov'è sta storia, sta soluzione qual è? È quella che Giovanni ci ha detto all'inizio che la stazione sta cadendo. Come sta cadendo? Sta cadendo. Sta cadendo verso la Terra, sta cadendo come nello stesso modo in cui io prendo questo e la lascio andare, la stazione spaziale sta cadendo così. Se fosse ferma catrebbe per Terra. Ma non è ferma, sta andando a una velocità, in quella direzione, alla velocità di 28.000 chilometri all'ora. Sapete quant'è 28.000 chilometri all'ora? È più o meno 8 chilometri al secondo. Quindi voi immaginate di essere dentro un'ora, 8 chilometri al secondo. Ci sa quante multe che uno si beca, tutte le telecamere, tutto il mondo. 8 chilometri al secondo. E a quella velocità cade, la stazione cade, tanto quanto la Terra è rotonda. Per cui cade, 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 cade e continua a cadere attorno alla Terra senza mai toccarla. E in questa condizione speciale di caduta, quando stai cadendo, lì succedono queste cose speciali, non senti più la gravità. La gravità è come se si annullasse, c'è ma non la senti. Mi è mai capitato di essere su un ascensore o su un aereo, un vuoto d'aria, o non so, fare un passo e non vi rendete conto e uno non si rende conto che c'è il buco e cade di quel momento. Ecco, sulla stazione è così, solo che si sta a sei mesi. E cosa succede, visto che ti ho servito un po' di acqua, cosa succede se portiamo quest'acqua sulla stazione spaziale? Lasciala andare e vedi. Vuoi berla tra l'altro? Lasciala andare e vedi. Ecco, un'altra cosa succede sulla stazione spaziale quando bei? Fai così e t'anneghi, perché l'acqua rimane qua, quindi devi imparare a bere. No, è un posto veramente speciale perché tutto cade e in questa cosa non si vede più la gravità e si possono vedere delle cose incredibili. Adesso, noi non ci rendiamo conto dell'effetto che la forza di gravità ha su di noi, su quello che ci sta attorno, perché noi siamo nati con la forza di gravità e la usiamo tutti i giorni per fare quello che dobbiamo fare. Per esempio, se io ho qualcosa in mano e lo voglio appoggiare, lo prendo e lo appoggio lì. Voi provate a fare così in orbita, lo appoggio lì e quello non sta lì. Perché dovrebbe star lì? Non solo, è interessante, i primi giorni quando arrivi su e sei un terrestre, devi ancora abituarti a essere un extraterrestre, devi diventare un extraterrestre e succedono le cose strane, per esempio, finalmente riesci a mangiare qualcosa, sei lì con la tua scatoletta di tonno, non lo so, sei lì che stai mangiando, sei un attimo sovrapensiero e ti vola via il cucchiaio, il cucchiaio non c'è più, dove sarà il cucchiaio? Qui, chiaramente, no? Per cui come un cretino ti metti lì a cercarlo per terra, quello dove tu pensi che sia per terra, perché magari quell'altro mangia piedi in giù, perché dov'è il per terra? Comunque ti metti lì a cercare e quell'altro ti dice, scusa ma cosa stai cercando il cucchiaio? Eh sì, ciao, voi immaginate che il cucchiaio o la forchetta potrebbe essere in qualsiasi parte di questo teatro, va a incastrarsi nei posti più strani. Poi pensate che a un certo punto uno stava facendo un esperimento con un iPad, l'ha lasciato andare un attimo e sparito, sparito l'iPad, cercato un quarto d'ora, poi è venuto da noi, ragazzi ho perso l'iPad, devo fare l'esperimento, passa il tempo, queste cose mi aiutate? Non c'è stato verso di trovare quest'iPad, quindi l'abbiamo dichiarato perso sulla stazione spaziale e io sto detto ma come fate a perdere un iPad sulla stazione? Vabbè, ok, va bene. 15 giorni dopo arriva il mio collega con l'iPad in mano, così, dicendo ragazzi guardate cosa ho trovato, dov'era? Dice, non lo so, ero nel laboratorio giapponese e ho sentito, ding, l'iPad, buongiorno anche lei sulla stazione, che piacere, quindi non sapremo mai dove è finito l'iPad, succedono queste cose, per cui tu trovi il tuo cucchiaio finalmente dopo mezz'ora, torni indietro e non c'è più la scatoletta del tono, non ricominci da capo un'altra volta, allora facciamo un po' di teatro, usiamo lui come cavia, che bello Giovanni, allora siamo sulla terra, tu sei qua, scusa, mettiti così, esatto, devi spostarti qua, come fai? Mi muovo un piede dopo l'altro, ti muovi, cammini, ti fai queste cose così, arrivi lì e va bene. Mi fermo. Allora io, facciamo un'analisi fisica, Giovanni ha spostato il baricentro, perché se non sposti il baricentro fai così, rimani qua, quindi hai spostato il baricentro, prima di cadere metti il piede avanti, vai avanti, quando ti vuoi fermare lì, tiri dentro il baricentro e stai fermo, perfetto. Ora sei sulla stazione spaziale internazionale, sei qui e vuoi andare qua, come fai? Ma mi verrebbe da fare così, però non lo so se... perché siamo su un palco per cui... Cioè un passo di danza della musica... Non lo so. E poi quando fai così rimane... No, il problema è che se faccio così poi devo frenare da qualche parte e quello mi preoccupa un po'. Beh, allora, tanto per cominciare, non puoi far così perché non sei appoggiato a niente. Eh, allora mi spingo. Allora ti spingi, ecco, 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 allora inizio dici allora mi spingo, perfetto. Attenzione che lo spingere, quando sei sulla stazione spaziale, devi stare attento perché dovresti spingere facendo passare la forza della tua spinta per il tuo centro per il tuo baricentro, perché sennò c'hai un angolo che ti gira, per cui nei primi giorni cosa fai? Va che bello, una maniglia, trac, boom, una testata contro il muro. Quindi dici, ok, fermi, baricentro cos'era con la storia lì, baricentro, quindi cominci magari a spingere con due mani. Ecco, non siamo capaci noi di spingere con due mani, perché non siamo abituati, esattamente nello stesso modo, per cui anche se ci provi ti spingi e comunque c'hai un attimino di carenatura contro il muro, cominci a roteare, a prendere le cose, a sbattere, eccetera, eccetera. Vabbè, diciamo che riesci ad andare dritto, riesci ad andare dritto, il problema è che devi capire che sì, ti devi spingere dritto, ma devi anche frenare. A terra, per frenare, tiro dentro il baricentro, smetto di muovere le gambe, sono fermo e resto qua. Nello spazio sei lì, ti spingi una bella spintarella, parti all'inizio, bello forte, perché è carino fare l'uomo Superman, parti, ecco voglio fermarmi lì, 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 là, là, contro il muro. Quando capisci, dopo la terza testata, che se ti tagli ti cuce un ingegnere, forse non è il caso, cerchi anche di lasciar perdere. Per cui come fai a fermarti? Aspetto che ci sia un ingegnere che ti prende al volo dall'altra parte. No, ad occhi, la maniglia che c'è lì, arrivo lì, prendo la maniglia al volo, giusto? Quindi riparto un'altra volta, faccio proprio un movimento plastico, mi attacco alla maniglia, giro attorno alla maniglia, do una testata contro il pavimento e quindi ricomincio un altro questo, è un problema completo, quindi devi cominciare a negoziare questo. Non è facile, praticamente, se uno ci pensa, devi imparare a camminare usando le mani con attenzione, poi quando arrivi lì... Non è che stai fermo, io qui cosa sto facendo? Niente, sono fermo, ma in orbita non starei qua, in qualsiasi movimento, voi pensate, i primi giorni ti sconvolgi perché arrivi, devi fare qualcosa al computer, il computer è lì, tu vai lì vicino, cominci a scrivere e vai via. Allora, ti spingi un'altra volta, cominci a scrivere e vai via. Lo sai cos'è che ti manda via? Le mollettine dei tasti, le mollettine dei tasti che ti spingono indietro e tra l'altro questa è la ragione per cui andiamo in orbita, perché in questa situazione di assenza di gravità, o dove non si vede la forza di gravità, questi fenomeni piccolissimi che ci sono, si vedono, si possono misurare. La forza di gravità è così enorme, così forte, immagina che qua con noi ci siano delle formiche, noi siamo degli scienziati con la nostra lente di ingrandimento che vogliamo vedere come funzionano le formiche, però con noi c'è anche un elefante, un bel elefantone, no? Così. voglia vedere le formiche, forse è bene se tiriamo via l'elefante, giusto? Ecco, l'elefante è la forza di gravità, tira via l'elefante e allora comincia a vedere tutta una serie di cose incredibili, di cose che si comportano in un modo completamente diverso e allora lì puoi imparare tanto. Una delle cose che si comportano in un modo diverso è il tuo corpo tra l'altro, che dice, sembra che gli astronauti siano dei grandi scienziati, chissà cosa fanno i nord, difatti siamo due cose, o il braccio dello scienziato, cioè tu fai quello che ti dicono di fare, io sono un ingegnere ma magari mi fanno fare una cosa di genetica, una cosa di non lo so, una cosa che non è il mio campo ma lo faccio se ho una procedura e l'equipaggiamento e sono addestrato, giusto? Quindi fai il braccio dello scienziato o la cavia, cioè se tu l'esperimento sul quale viene fatto l'esperimento e ci sono tante cose, il corpo umano in questa situazione di microgravità cambia, cambia anche abbastanza velocemente, per esempio una delle cose che succede subito appena arrivi in orbita è che non c'è più la forza di gravità che tira i liquidi verso il basso, verso le gambe, per cui i muscoli che sono abituati a ripompare questa roba su, se no starebbe lì, vengono le gambe così, pompano e ti si gonfia tutto, la sensazione è come quella, provate stasera andate a casa, vi mettete sul divano, testa in giù, le gambe in su, state lì un'oretta, ecco, quando vi viene il famoso sangue alla testa, così è come uno ci si sente quando arriva in orbita e rimani così per sei mesi, non è bellissimo tra l'altro, il corpo capisce che è una situazione anormale, cerca di bilanciare, difatti una delle prime cose che fai nelle prime ore in cui arrivi in orbita, vai in bagno, che come fa il corpo a abbassare la pressione, dice abbassiamo il volume dei liquidi, fai due litri di liquidi, spelli due litri di liquidi, che vuol dire però che la concentrazione di tutto il resto ti va alle stelle, per cui c'è uno sbilanciamento incredibile, sangue alla testa, meno due liquidi, la concentrazione fuori, poi cosa succede? Poi cosa succede? Tra l'altro in questa situazione c'è una sovrappressione all'interno della scatola cranica e oggi sappiamo, non lo sapevamo fino a qualche anno fa, oggi è una cosa che si sta misurando, c'è uno schiacciamento del cervello, uno schiacciamento del nervo ottico, uno schiacciamento dell'occhio, si creano degli edemi al nervo ottico e ci sono dei problemi, alcuni astronauti sono tornati con delle perdite di vista piuttosto consistenti, quindi si sta cercando di capire cosa sta succedendo, così come un'altra cosa, poi mi fermo, è il fatto che il corpo intelligentemente vede o sente che non c'è più la forza di gravità e dice che bello, non ci serve lo scheletro, smantelliamolo, grazie come buono lei e comincia a smantellare lo scheletro, cosa vuol dire? Che fisicamente lo scioglie, noi qui sulla terra, il nostro metabolismo, ogni giorno ripara lo scheletro, ogni giorno lo ripara, lì non solo lo ripara, ma comincia anche a smantellarlo, tant'è vero che buttiamo fuori, nell'urina principalmente, buttiamo fuori calcio, che è il componente dello scheletro, fino a dieci volte di più di una persona osteoporotica sulla terra, il che vuol dire che se una cavia perfetta, che bello, questo sputa fuori calcio dieci volte di più, adesso gli do questa medicina, gli faccio fare questo protocollo, gli faccio mangiare tanto sale, tanto potassio, tanto quello che è, e vediamo se questo ha un effetto, quindi questa è una cosa… Poi hai avuto delle ripercussioni tornando sulla terra? Ho avuto delle ripercussioni? Cioè sulla salute a lungo termine? Non si direbbe, ecco. Non si direbbe, beh, non si direbbe, non si direbbe, ma anch'io ho, sì, le ripercussioni, vabbè. No, beh, misurato ho perso massa scheletrica, come tutti, per cui, allora, lo spazio sembra che sia un ottimo metodo per testare l'invecchiamento, perché in questo ambiente, dove tra l'altro sei bombardato da radiazioni, sei in questo posto dove galleggi, non c'è più, se il sistema immunitario è debilitato, per esempio, ci sono… è molto difficile dare un numero uguale per tutti, per cui voi pensate che quando fanno una medicina, dicono questa medicina fa passare il mal di testa, come fanno a sapere che fa passare il mal di testa? La danno a duemila persone, se a 1990 fa passare il mal di testa, dicono fa passare il mal di mal di testa, e quindi è una cosa statistica, ora di astronauti ce ne sono 20, 30 che sono andati sulla stazione spaziale, quindi è difficile dire una cosa uguale per tutti, ma diciamo che in misurata a me, nella mia prima missione di lunga durata di sei mesi ho perso circa il 4% della massa scheletrica, nella seconda un pochettino meno perché avevamo fatto un protocollo di esercizi più forte, però insomma, non mi sono mai fatto niente, in 50 anni di carriera dove ho fatto di tutto di più nell'esercito, nello spazio, di tutto di più, non ho fatto niente, due mesi fa ero a un evento come questo, e di fatto perché prima ho guardato di sotto perché normalmente sarei saltato, avrei saltato giù, a questo evento sono saltato, era molto più alto di così e ho fratturato il calcagno, e quando sono andato in ospedale, perché ho dovuto fare un intervento chirurgico e tutto il resto, hanno visto che il calcagno aveva delle perdite di massa, forse anche quello la regione per cui si è rotta, vabbè sono stato io imprudente, tutto quello che volete, ma lì c'è anche qualcosa di così, però insomma, alla fine. Diamo la parola ai ragazzi, se ci sono delle domande, visto che adesso siamo sulla stazione, c'è Paolo che ci racconta come si vive, c'è qualcuno che vuole sapere delle curiosità o delle domande per Paolo Nespoli? Sì, cominciamo, allora non ci sono i microfoni? Ah sì, ci sono anche i microfoni, ma possiamo farli anche in maniera diretta che poi li ripetiamo. Cosa succede se porti una livella nello spazio? Porti una? Livella nello spazio. Libellula? Livella. Livella, se porti una livella nello spazio? Qual è la domanda? Se porti una livella nello spazio? Completa la domanda? Che cosa succede? Che cosa succede? Perché porti una livella nello spazio, cioè. Allora, come ti chiami? Sabrina. Sabrina? Sì. Come funziona il meccanismo della livella? Le stai costruendo una? Sì. Con una bolla. Eh? Con una bolla. Con una bolla. Con una bolla. E poi? E misura se le cose sono dritte. Misura? Se le cose sono dritte. Se è dritto o storto. Se è dritto o storto. Ok. Vabbè, sto cercando di fare una cosa. Qui avete la plastica indistruttibile. Questo è sicuramente un problema per il resto del mondo. Questa qua noi moriremo come generazione e questo pezzo di plastica resterà per sempre a testimonianza della nostra capacità. Ah, questa è una livella. La mettiamo lì così. Se è piatta vuol dire che siamo piatti. Se non è piatta non siamo piatti. Spiegazione tecnica precisa. Domanda. Se io portassi questa bottiglia, così com'è, questa bottiglietta chiusa, così, sulla stazione spaziale con me, la portassi e la mettessi lì, che cosa succederebbe all'acqua qua dentro? Giovanni aiutami a... Sì, allora sentiamo. Evapora, prima risposta. Evapora... Vabbè, no, è chiusa. È chiusa, quindi va bene. Sentiamo. Vola via. Vola via cosa? La bottiglia o l'acqua? L'acqua vola via e dove va? È chiusa dentro. Sentiamo qua davanti. L'acqua non rimane dov'è, ma... Vogliamo sentire qualcuno la suona? Sì. Non perché questi sono... Allora, ce ne vedo una lontanissima. No, aspetta, aspetta, questa è interessante. L'acqua non rimane dov'è, ma vola verso l'alto. Giusto? Ok? Là verso l'alto, quindi. C'era una mano. Vai, urla. Sì. Sì. Quanti giorni sei stato nello spazio? Come ti chiami? Ok, ottimo. Ti rispondo a questa domanda. Se tu mi dici che cosa credi che succeda a quest'acqua... La vedi quest'acqua là dentro la bottiglia? Secondo te che cosa succede quando arrivo e la portiamo sulla stazione? Per cento giorni. Non lo so. Allora non saprà mai quanti giorni è stato nello spazio. C'era anche una bambina là in cima. No, vabbè, rispondo a traccia. Sì, vai, vai. L'acqua inizia a fluttuare nella bottiglia. Sentiamola su. Marcisce. Certo che... L'ipotesi sono... Potrebbe, potrebbe, è un'ipotesi, va benissimo. Si sparge dappertutto dentro la bottiglia. Si divide in bolle di acqua. Si divide in bolle. Ok, ok, benissimo. Abbiamo detto tante ipotesi, quella più fantasiosa la marcisce. Ma, allora, attenzione, noi abbiamo una mente così terrestre e siamo così legati alla forza di gravità che un po' d'acqua dentro una bottiglia già ha messo 600 persone in crisi. Vogliamo trovare un adulto? Un adulto che mi dici, perché dici, bambini fanno questo. Un adulto, sentiamo gli adulti qua. Un adulto, qualcuno di... Dica, signora. Dov'è, dov'è? Si butti. Lì. Si divide in goccioline e si... Di che dimensioni le goccioline? C'è un bambino che sta alzando la mano del papà. Un bambino che sta alzando la mano del papà. Sta facendo volontariato del papà. Bravo, bravo, si fa così. L'ossigeno si divide... Quello è creativo, creativo, andiamo, andiamo. L'ossigeno si divide... L'ossigeno di cosa? Dell'aria o dell'acqua? Quello dell'acqua. Ci abbiamo ossigeno e idrogeno, facciamo l'elettrolisi gratis senza far niente. Poi? E poi l'acqua cosa fa? Diventa tutto gas. Esplode la bottiglia. Ok, benissimo. È per quello che il figlio alzava la mano. Molto creativo. Qui c'è ancora l'ultimo adulto. L'ultimo qua. Se non la muoviamo l'acqua sta ferma. Incorretto. No, sono tutte belle, ma dove volevo arrivare? E che solo un po' d'acqua dentro una cosa ci mette già in crisi. Voi immaginate i processi complessi, le ossa, il coso umano, la tecnologia, le fiamme, i gas, la fisica, la meccanica orbitale, la materia oscura. Cioè, c'è così tanta roba. Già l'acqua non riusciamo a capire. Allora, la risposta è la seguente. La prossima volta che vedete un po' d'acqua dentro un contenitore, guardate dove l'acqua tocca il contenitore. Vedrete, se guardate con attenzione, che l'acqua non è piatta così, ma fa una specie di menisco. Cioè, l'acqua fa... si vede bene nelle cannucce, no? Vede questo... che cos'è quel menisco? È la forza, l'amore tra l'acqua e le pareti. Si chiama attenzione superficiale, ma questo è boring. Quindi, è questa cosa per cui l'acqua vuole andare sulle pareti. Ma arriva la forza di gravità, arriva l'elefante che dice, ferma lì dove vai, giù, giù lì. Ora sono in orbita e tiro via la forza di gravità. Che cosa succede? Che l'acqua... si riempie o si dispone su tutte le pareti, completamente su tutte le pareti, e il vuoto va nel mezzo. Il mezzo non tocca niente, c'è la bolla d'acqua nel mezzo. Una cosa veramente incredibile. Se io dovessi aprire la bottiglia in orbita, con attenzione, piano, 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 apro la bottiglia, quindi c'ho tutta l'acqua dentro, che cosa succede? Di, 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 di. L'acqua vola via. No. No, perché fa una specie di laghetto qua, la tensione superficiale rimane lì. Certo che se io la scuoto, no? Se io adesso, se io adesso faccio così, e vedete cosa succede? Se dovessi fare così in orbita, cioè gli do un po' di energia, quindi la sparo fuori, e non viene fuori il serpentello d'acqua, e se ne va in giro come serpentello. Appena esce fuori, l'acqua assume la forma sferica, perché quella forma sferica è quella per cui ci vuole meno energia. L'acqua non sta cilindrica, fa fuu, e diventa una sfera, e c'è la sfera che bolle, che gira attorno. E voi pensate, avete mai visto un liquido sulla Terra stare per conto suo in una bolla? è la definizione di liquido, va sempre a cercare un contenitore e va sempre il più basso possibile. E lì invece, nello spazio, ti gira attorno come la bolla. È una cosa veramente interessante e incredibile. Brava, bella domanda. Bella domanda. State attenti, adesso ne facciamo ancora un'altra, ma scegliatela bene perché avete visto, c'è mezz'ora di risposta. Allora, c'è una domanda, vedo anche degli adulti, stiamo più sui bambini, gli adulti che si stanno sventolando. Prendiamo anche un adulto, va bene? Siamo un adulto, dai. Allora prendiamo un adulto. Signora. Signora sta dormendo. Ah no, non è lei. La signora si chiama? La signora Katia vuole sapere che cosa mangiamo e come funziona la digestione. Andiamo fino in fondo proprio, anche dopo la digestione. Signora non lo voleva sapere, cioè voglio dire, è l'ora di cena. Ah, proprio. Cosa mangiamo? Queste sono le diapositive che non ci mostrerà. Cosa mangiamo? Non so perché ho messo questa, ma non dice niente. Vabbè, che cosa mangiamo? Il cibo, tra virgolette, è un problema sulla stazione, perché noi come esseri umani mangiamo tre volte al giorno, abbiamo bisogno di una certa quantità di calorie, proteine, vitamine, cioè non è che puoi dire, vabbè oggi mangio una mela, domani mangio un limone, dopo domani mangio, cioè hai bisogno di avere un complemento di roba che ti possa mantenere questo corpo in vita. E sulla stazione non si può cucinare, perché le fiamme, per esempio, non funzionano. Uno non può andare lì a accendere il gas, o le cose elettriche. Sapete, per esempio, adesso sto cercando di lungarmi fino all'infinito, ma questo effetto della mancanza della forza di gravità si ripercuote dappertutto. Per esempio, c'è il sistema di mantenimento della vita che deve continuamente risucchiare l'aria, pulirla e rimandarla fuori. In qualsiasi parte della stazione che vai c'è una specie di corrente d'aria, poca, perché troppa non sta bene, ma deve esserci questa corrente d'aria. Perché? Perché se non ci fosse, io sono fermo qua e comincio a respirare, respiro tutto l'ossigeno che ho qua davanti e muoio. Cioè, non importa che lì c'è tanto ossigeno, ma se io mi respiro tutto l'ossigeno qua, non c'è lo scambiamento. Quando voi fate, buttate fuori l'aria calda, l'aria va verso l'alto, va lassù, si rimischia e torna giù. Sulla stazione, va fuori e rimane lì. Lì da dentro, rì fuori. Lì da dentro, rì fuori. Se io dovessi prendere un po' d'acqua, questo, e ci metto, che ne so, una cosa calda qui, e la scaldo, quando la temperatura sulla Terra ha raggiunto una certa temperatura, si crea, avete visto l'acqua che bolle, si crea l'acqua che bolle, che gira, che va, e l'acqua si rimischia e bolle completamente. Ecco, quello è un effetto della forza di gravità. Se non c'è la forza di gravità, io ci metto dentro la cosa, l'acqua bolle qua, e qui è fredda. fa una bella bolla qua, e boom. Quindi, non si può cucinare, morale della favola, o meglio, non abbiamo perso, le agenzie non hanno investito nel essere creativi e cucinare, hanno detto, vabbè, mangiate a sacco, mangiate come se fosse in campeggio, quindi, mangiamo come se fossimo in campeggio per sei mesi. il problema è che non solo non ci sono le cucine, ma non ci sono neanche i frigoriferi. Cucinare per mangiare sulla stazione è come se voi oggi andaste a casa, cucinaste qualcosa, qualsiasi cosa, quello che volete. Immaginate di arrivare a casa e di cucinare qualsiasi cosa, dopodiché lo prendete, lo mettete in un contenitore normale, lo mettete lì, e lo lasciate sul tavolo, lo mangiate due anni dopo. Quanta roba è mangiabile due anni dopo? Secondo voi quanto? Ecco, sulla stazione tutto il cibo deve essere cucinato, confezionato, mantenuto a temperatura ambiente, mangiabile, senza farti morire, fino a due anni dopo, facendo in modo che ti dà la quantità di calorie, proteine, vitamine, necessaria per la vita. Quindi non è facilissimo gestire il sistema della stazione. Nonostante questo, la NASA, le agenzie spaziali internazionali hanno un programma dietetico abbastanza forte, oramai hanno stabilito, si sono stati divisi i cibi in quattro categorie, ci sono i cibi termostabilizzati, termostabilizzati è una lattina chiusa, si fa bollire, si chiude, ecco, quello è termostabilizzato, una cosa così, potrebbe essere un brasato, una pasta, qualcosa che è cotta, chiusa lì dentro, in questo modo. Ci sono i cibi liofilizzati, dove viene estratta tutta l'acqua e quindi non marciscono, ci sono i cibi irradiati, prendono per esempio delle bistecche, le cuociono sulla griglia, le mettono in una busta, tirano fuori l'ossigeno, mettono l'azoto e poi le fanno passare sopra una macchina a raggi gamma, lo sapete che buona parte delle cose che comprate al supermercato sono trattate così, raggi gamma sono ottimi per distruggere i microorganismi, quindi le sementi, il cibo che arriva viene fatto passare sotto i raggi gamma e quindi durano molto di più del normale. Quindi irradiati e l'ultima cosa sono i cibi secchi, potrebbe essere un cioccolatino, un biscotto, qualcosa di sì che sta così. Quindi con queste cose così riusciamo a mangiare. Il sistema funziona perfettamente, cioè il corpo del fatto di essere in assenza di gravità non ne risente, abbiamo questa peristalsi che è questo meccanismo interno che fa funzionare tutto e prima o poi entra di qui ed esce di là. Quindi qual era la domanda? Che esce? Non esce? Sì, vedo un problema. È un problema? Sì. Beh, sì, in teoria potrebbe essere un problema. Tu immagini di essere lì a manovrare il braccio meccanico e passa via qualcosa che non dovrebbe passar via. Siccome questo è un problema, allora gli ingegneri della NASA ci hanno pensato e hanno costruito il gabinetto spaziale. Il gabinetto spaziale che è un gabinetto più o meno normale, l'unica cosa è che non c'è la gravità per cui quando fai le cose tendono ad andare ad un'altra parte e quindi hanno costruito questo gabinetto con un sistema che per esempio succhia le cose. Per cui ecco, c'è una interessante polvere dove dovresti fare il liquido perché questo liquido viene preso viene trattato viene mandato nel sistema di purificazione e ritorna fuori dall'altra parte è relativamente semplice l'unica cosa è che quando vai in bagno sembra centrale nucleare perché sanno tutti che vai in bagno vabbè non è un problema c'è questo cosa così devi solo centrare allora per i maschietti è un po' più facile perché basta puntare devi solo stare attento a non andare troppo vicino perché è un casino dopo la prima volta che ti capita impari subito che devi stare attento a non andare troppo vicino se c'è qualcuno che gli viene in mente non fa bene ve lo dico io le signore non lo so ma penso che sia un problema un po' più serio così mi dicevano le mie colleghe ma insomma si può fare e invece le cose solide vanno in una specie di contenitore devi solo perché il buco è grande così devi solo assicurarti di centrare il buco perché se centri il buco viene aspirato lì dentro e questa storia mi rimangono un po' scioccati così come l'urina cosa fate con l'urina? e l'urina viene riciclata abbiamo un sistema di riciclo che prende l'urina la ritratta oggi siamo bravi la stazione è un esperimento di ecosostenibilità riusciamo a purificare circa il 90% dell'urina un 8% che non si riesce a purificare è comunque acquetta un po' strana e quello lo prendiamo lo mettiamo nella macchina dell'elettrolisi che vuol dire che rompiamo l'idrogeno con l'ossigeno e respiriamo l'ossigeno respiri l'ossigeno che c'è dentro l'urina che non puoi bere quindi non lo butti via l'idrogeno lo usi con il metano cioè c'è tutto un altro processo molto complesso per cercare di riutilizzare il massimo possibile poi c'è un 2% circa che invece quello non è riutilizzabile lo buttiamo via a un certo punto nella descrizione di solito mi guardano e mi fa ah quindi bevete urina? no beviamo acqua viene dall'urina ma è acqua ah ma anche la sua o solo la mia? la mia sì ma la sua no lui no lui beviamo acqua sulla terra facciamo la stessa cosa esatto d'altronde quando chiedo ai ragazzini gli dico scusate secondo voi quando voi tirate lo sciacquone dove va l'acqua? dove va quella roba lì? dove va? su Marte sulla Luna nel lago tutto nel lago dritto dove va? nelle fogne e dopo? nel depuratore e dopo? e dopo? dopo il depuratore? eh però ti ritorna indietro cioè quest'acqua qua che abbiamo pagato non so quanto con la plastica indistruttibile è probabilmente è stata bevuta da qualche dinosauro qualche anno fa da qualche uno che passava di qua non lo so da qualcuno è raro che quest'acqua sia acqua vergine pura la beviamo noi la facciamo e qualcun altro la berrà dopo la terra è così è un sistema di pulizia a lungo raggio ora noi sulla stazione lo facciamo un po' più corto ma quello che bevi è acqua non è urina ma è interessante questa cosa la stazione è anche una di queste cose è un laboratorio dove si impara l'estremo dell'ecosostenibilità perché portare acqua portare ossigeno portare rifornimenti è estremamente costoso e ci si arrabbatta nel cercare di farlo nel miglior modo possibile siamo quasi arrivati in fondo purtroppo ma scusa ci hai fatto vedere questo qua che è il menù no l'ho preso così a caso no voglio dire arrivare tutte le persone pensano che sulla stazione uno e su dice ah cosa faccio questa mattina vediamo un esperimentino non è proprio così sulla stazione noi grandissimi astronauti siamo i metalmeccanici siamo i lavoratori di bordo sai quello che dai la tua forza lavoro e i pianificatori prendono queste sei risorse e fanno in modo di farti lavorare il più possibile perché hanno bisogno di avere un ritorno quindi ti mandano ogni giorno una pianificazione più o meno come questa comincia le sette e mezza di mattina di quale mattina di Zurigo di quale mattina sette e mezza di quale mattina le sette e mezza GMT che sono le mattine di Londra comincia le sette e mezza di mattina fai esattamente quello che ti dicono di fare guardate questo dieci minuti di pausa sette e mezza di sera ed è così per sei mesi di fila tanto non è che puoi andare fuori la sera stasera cosa vado fuori al cinema vado a mangiare la pizza con gli amici e quindi lavora zitto e sono tutte attività è interessante come ti puoi trovare a fare transfer dragon lì c'era un veicolo appena arrivato per cui c'era bisogno di trasferirlo in materiale fai lo scaricatore di porto poi dice EVA loop scrub avete visto che oggi anzi ieri hanno fatto una passeggiata spaziale c'è bisogno di ricondizionare tutta la tuta questo è un esercizio EVA è la passeggiata spaziale questo si è messo a lavorare per mettere a posto la tuta vedi dopodiché devi fare l'esercizio un'ora di esercizio anzi un'altra ora di esercizio un'ora e mezza qua un'ora qua ecco sulla stazione spaziale per controbattere o contrastare quali che sono gli effetti della forza di gravità ti fanno fare un'ora di esercizio facciamo così guarda questa è una cosa interessante ecco potresti fare che ne so un esperimento qua dentro un altro qui qui sto maneggiando delle cellule cancerogene avevamo una ventina di culture di cellule cancerogene perché gli scienziati volevano vedere cosa succedeva se le maneggi se stanno in assenza di gravità questo è un frigorifero speciale che abbiamo a bordo che non è per il mangiare questo è per i campioni per i campioni vedete questo ho appena prelevato mi sono appena prelevato del sangue sono dei campioni di urina che vengono frizzati a meno 90 gradi quindi quando apri il frigorifero è bene che hai i guanti se no ti restano le dita attaccate lì sopra guardate come sono contento Katie è il braccio dello scienziato io sono la cavia sta controllando se mi è rimasto un po' di cervello mica tanto questa è un esperimento sul fuoco quindi in giornata ti fai una cosa genetica una cosa da ingegnero una cosa da fisico una cosa di tutto è una cosa incredibile esperimento sul fuoco perché le fiamme questa è una fiamma fotografata qui sulla terra questa è una fiamma fotografata nello spazio funzionano in un modo completamente diverso e addirittura con questa macchina speciale hanno scoperto l'anno scorso una classe no nel 2017 una classe speciale di fiamme della quale non si sapeva assolutamente l'esistenza ma in assenza di gravità sono visibili e questa classe di fiamme è importante nel ciclo della combustione per cui stanno pensando che capendo come funzionano forse si riesce a migliorare il rendimento dei motori a scoppio voi pensate quanti motori a scoppio ci sono in giro per il mondo anche solo un minimo rendimento è una cosa importante abbiamo coltivato l'insalata perché perché coltivare l'insalata perché se vai su marte vedrai che non ti puoi portare tutto il cibo quindi non è semplice coltivare l'insalata perché le radici dove vanno quanto c'è bisogno c'è tutta una serie di che insalata devi portare avevamo 4, 5, 6 tipi di insalata diversa questo è un esperimento di telemedicina un'apparecchiatura molto piccola incredibile con questa cartuccia ho preso della saliva l'ho infilata lì dentro ho infilato la cartuccia là dentro e ho acceso la macchina e questa ha fatto un'analisi che ha mandato al centro di controllo voi pensate che in Italia ci sono solo due ospedali che riescono a fare queste analisi per cui oggi se un paziente è malato deve andare o a Milano o a Roma a fare queste analisi qui le ho fatte io nello spazio questo vuol dire telemedicina vuol dire portare l'ospedale a casa del paziente e non il paziente all'ospedale voi immaginate un paziente anziano allettato cioè che non può muoversi dove lo portare all'ospedale è un problema e quindi serve la stazione serve anche per quello vabbè qui andiamo al dettaglio altri tipi di esperimenti questi sono i fluidi esperimenti sulle gambe sui muscoli sulle cose ora non ho tempo di dilungarmi su queste cose ma questi sono protocolli complessissimi e vanno a vedere che cosa fa la forza di gravità o la mancanza della forza di gravità su tutti i muscoli o lo schetro eccetera eccetera facciamo le cose tecnologiche abbiamo sparato fuori 27 mini satelliti dalla stazione questa è una specie di corazza spaziale fatta ad acqua è una protezione che pensiamo di usare per andare su Marte questa è una è una una fornace spaziale non cuciniamo i biscotti mettiamo dentro dei pezzi di metallo vengono fatti fondere e si fanno delle leghe che sulla terra non si possono fare anche questa è una cosa in te sembra un casino infinito è il laboratorio giapponese con tanta roba questo è il problema dello spazio è che c'è roba dappertutto sul pavimento sulle pareti sul soffitto d'altronde potrei girarmi a gambi all'aria e spesso volentieri lo fai e non succede assolutamente niente se lasci andare un cavo se hai un cavo qua sulla terra e lo lasci andare cade per terra lì se lasci andare un cavo si attorciglia perché solo l'attorcigliamento dei cavi dentro nello spazio difatti vedete i cavi è un problema devi tenerli legati e già fanno questa roba guardate qua che cosa perché se tolgo questa cosa qui si riempie tutto guardate i cavi qua come vanno in giro vedete è un problema è un problema serio questo dell'assenza di gravità facciamo tanti collegamenti con le scuole usando la stazione radio e finalmente due ore al giorno di esercizio un'ora di esercizio cardiovascolare per far muovere i muscoli il cuore i polmoni abbiamo una ciclette spaziale che è veramente strana ma è così senza sedile senza manubrio e c'è la cintura di sicurezza vabbè e poi abbiamo un tapis roulant proprio così sul muro e corriamo così mi piaceva mi piaceva guardare la mia velocità e dicevo guarda sto andando a 6 km all'ora a dire la verità sono 28.006 km all'ora eh scusate sto andando a 28.006 km all'ora ci abbiamo anche la macchina e questa era la seconda cosa dove diceva E-RED è questa macchina per fare sollevamento pesi dove non c'è peso la NASA si è inventata questa cosa per cui c'è un sistema strano particolare dove con questa maniglia puoi decidere quanta forza vuoi tra questa piattaforma e questa barra e tu ti metti nel mezzo per cui la barra ti schiaccia verso la piattaforma la piattaforma ti schiaccia verso la barra e per esempio puoi fare gli esercizi di squat sono esercizi importantissimi perché ti vanno a sollecitare i muscoli delle gambe che altrimenti diventano così e non solo ti schiacciano la spina dorsale perché nello spazio la spina dorsale si allunga io sono diventato 7 cm più alto nello spina dorsale vado anch'io nello spazio eh 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 tanto ti si distende tutto ti vengono mal di schiena è un problema poi di che arrivi a terra si schiaccia tutto e se non si schiaccia bene finisce l'ospedale e ti operano di ernia cosa è successo non a me a qualcun altro per cui questi esercizi è importante e poi per finire qua abbiamo ogni tanto delle cose interessanti sulla stazione Tiabitui allora adesso facciamo questo esperimento puliamo la gabbia di topi facciamo questo parliamo un attimo col presidente della repubblica dopodiché e vai avanti così no? e questa è una fotografia fatta durante una videoconferenza col presidente Mattarella e siamo riusciti perfino a parlare con Papa Francesco per cui è ufficiale il Papa ha parlato con degli extraterrestri eravamo noi Paolo noi potremmo star qua delle giornate ascoltarti perché ci sono un sacco di racconti che non che non non possiamo sentire perché si fa tardi c'è un aspetto però che mi spiace non poter dare la parola maggiormente a voi ma vedete ogni domanda avete mezz'ora di risposta per cui c'è poco da fare ma c'è una cosa c'è una cosa che volevo per arrivare verso la fine insomma siamo partiti l'inizio dicendo che questa storia di conquista dello spazio è nata è nata dalla guerra era una guerra fredda ma anche era una guerra triste quella della seconda guerra mondiale ma forse lo spazio oggi è diventato invece un laboratorio per la pace beh diciamo che la stazione spaziale internazionale è vede oggi almeno due nazioni che non sono poi così tanto amiche la Russia da un lato gli Stati Uniti dall'altro eppure la stazione va avanti pensate che c'è una una legge addirittura del governo americano che vieta a qualsiasi funzionario governativo di viaggiare negli Stati Uniti scusate di viaggiare in Russia eccetto quelli che lavorano per la stazione spaziale internazionale perché è riconosciuto come una cosa che è sopra tutti e mi viene da dire che forse una delle cose interessanti è proprio questa internazionalità della stazione in futuro dovremo cercare di fare più cose assieme perché se posso vado avanti per dieci minuti adesso anche cinque c'è una cosa interessante c'è tante cose interessanti sulla stazione ma ci sono delle cose che sono tra virgolette non dico non è la ragione principale per cui abbiamo costruito la stazione spaziale internazionale tra l'altro sulla stazione c'è un modulo che si chiama cupola che è questo buona parte della stazione è stata costruita in Italia tra l'altro per tutta una serie di regioni particolari ma questo è un modulo complesso che ha sette finestroni enormi e questo modulo serve per manovrare il braccio meccanico spegniamo le luci in sala Houston mi spegnete le luci bravi e anche qua le abbassiamo un po' serve per pilotare il braccio meccanico per cui se fai l'astronata devi fare anche il gruista spaziale devi imparare anche a fare il gruista spaziale e manovrare questa gru andare a prendere per esempio le navicelle di rifornimento ma la cupola quando non è utilizzata è lì e di notte è interessante come se tu non c'è niente da fare non è che ti ripeto non è che puoi andare fuori a mangiare la pizza con gli amici dici cosa faccio stasera dunque un po' di posta elettronica chiamo qualche amico ah vado alla cupola a guardarmi la terra allora succede una cosa interessante che a 28.000 km all'ora la stazione fa un giro completo della terra in un'ora e mezza che vuol dire che ogni 40-50 minuti c'è un'alba o un tramonto 16 albe 16 tramonti al giorno ci potrebbero fare 16 colazioni dice l'alba io a colazione vabbè 16 albe 16 colazioni si sedi di colazione al giorno va bene e quindi la terra se vai lì ti passa sotto velocemente quindi io quasi ogni sera ho deciso di siccome sono un fotorio voglio fare le foto vado a vedere questa terra da lassù se è a 400 km la vedi in modo diverso noi facciamo conto che la terra quando siamo qui sulla terra la guardiamo in un modo un po' strano è come se noi fossimo in un museo e dovessimo vedere un ritratto e l'unico modo che abbiamo per vedere questo ritratto è di mettere il naso contro la tela e di guardare guarda un nasino forse un dente un occhio un pelo un pelo del naso no cioè non lo vedi che cos'è se vuoi vedere che cos'è ti devi tirare indietro e allora riesci a vedere questo e lì è lo stesso se a 400 km guardi questa terra da lassù la guardi in un modo strano se vai alla cupola e che ne so qui sono adesso un quarto alle sette probabilmente buio fuori se aveste un'ora di tempo andreste sul lago e fareste un'ora di foto alle sette di sera al buio in una giornata di primo inverno ma se siete sulla stazione e andate lì alle dieci di sera alle sette di sera a mezzanotte alle due quando volete e guardate di sotto ed è buio aspetti qualche minuto un'alba e diventa giorno qua di sotto dice guarda è tutto bianco perché siamo sopra la Siberia è inverno aspetta qualche minuto diventa primavera oh guarda l'India primavera aspetta qualche minuto ah no adesso diventate estate l'Australia aspetta qualche minuto ah un tramonto e vai avanti così per cui in un'ora e mezza vedi un'alba un tramonto un giorno una notte quattro stagioni cinque continenti e la roba ti passa a otto chilometri al secondo se non fai la foto velocemente ciao arrivederci e quindi mi sono divertito nella mia prima missione lunga durata perché si vedono le cose veramente incredibili veramente vedi delle cose che non vedi qua da terra quando sei col naso spiaccicato per terra io ho fatto in quella missione ho fatto qualcosa come 27.000 foto pensavo di averne fatte tante ho detto 27.000 e due anni dopo di me è partito un astronauta americano un tipo veramente strano molto creativo che ha delle idee veramente incredibili e ha pensato ma chissà quante cose che passano via durante il giorno e noi non ci siamo siamo a lavorare e allora metto lui ha deciso di prendere un paio di macchine fotografiche di mettere una specie di cavalletto un sistema per tenere la finestra ha azionato l'intervallometro e le macchine fotografiche erano lì tutto il giorno migliaia di foto tant'è vero che ha fatto 150.000 foto facendo quelle che si chiamano time lapse cioè delle riprese dove mettendo assieme questa foto ognuna per ognuna sembra un film e la terra ti passa di sotto quindi quando ho volato nel 2017 ho parlato con Don e gli ho detto Don quante foto hai fatto? 150.000 che pensi mi? e difatti in questa missione ne ho fatte 500.000 l'ho incontrato la settimana scorsa e mi ha detto se ritorno nello spazio ti faccio vedere io quindi abbiamo questa questa sfida comunque dalla dalla cupola non si possono usare dei teleobiettivi si può usare massimo 70-80 mm poi le finestre sono finestre corazzate e distorcono l'immagine mentre nella parte russa c'è un finestrone grande così con una finestra speciale per cui è possibile usare dei teleobiettivi molto grossi quindi nel mezzo della missione io facevo questi time lapse il russo faceva queste fotografie incredibili di dettaglio andava giù a vedere ogni singola città per cui il comandante americano ha detto ragazzi queste sono foto eccezionali io ho chiesto l'autorizzazione a usare una musica e quindi faremo un video prenderemo i tuoi time lapse le tue foto di dettaglio metteremo assieme e lo faremo per mandare ai nostri amici viaggiatori cosmici cioè i terrestri che viaggiano su questa nave in viaggio nell'universo per fargli vedere quanto è bella da un lato ma anche quanto è fragile quanto noi umani siamo dappertutto quanto ci sono cose in cui dovremmo fare attenzione quindi volevo chiudere se posso con questo video dura tre minuti e mezzo è lo spazio della canzone ve lo commento non è un video segreto è disponibile ad alta risoluzione 4k su youtube quindi se fate la ricerca silence nasa vi salta fuori questo video quindi adesso godiamocelo tutta se intanto vedo quel telefonino subito fate come volete ma c'è su youtube silence eccolo là o silenzio nasa se fate silenzio nasa salta fuori questo video ma silence è meglio quindi spegniamo le luci e guardiamocelo assieme e guardiamocelo e guardiamocelo grazie a tutti 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 se ci fosse quel muro non ci saremmo quindi dovremmo fare attenzione a tenerlo in considerazione paolo 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 nespoli grazie 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 io dico grazie agli organizzatori a silvia misiti a silvia misiti giovanna bognandi claudia mazza ipsa foundation dico anche grazie a paolo nespoli per farci sentire dei terrestri speciali grazie grazie a voi Giovanna e claudia sono la sopra quelle che lavorano di solito che sono dietro le quinte che fanno in modo che tutti funzionano venite voi a godervi questa vista questo è quello che siete riusciti a fare grazie io avevo detto che non avresti riempito il teatro mentre Giovanna aveva detto di sì e aveva ragione beh io non ho riempito il teatro siete stati voi a riempirlo bene io vi auguro quindi una ottima serata con questo sentimento di essere davvero dei terrestri speciali grazie mille a paolo grazie 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 una volta una volta si diceva andate e moltiplicatevi io dico moltiplicatevi con calma perché siamo in tanti con questo occhio attenzione bene buona serata